Ciao bellezze, buongiorno! Oggi vi mostro tre dolcetti mostruosi che potrete realizzare assieme ai vostri bimbi per la notte più spaventosa dell'anno, Halloween. I primi sono i budini di terra con vermetti e ragni. Per la realizzazione abbiamo bisogno di una confezione di preparato per budino al cioccolato, zucchero, latte, biscotti al cacao, caramelle gommose a forma di bruco o vermetto, contenitori o pirottini a forma di vaso e naturalmente qualche ragnetto. Come prima cosa preparo il budino, quindi aggiungo al preparato lo zucchero e il latte. Mescolo bene fino a far sciogliere tutti i grumetti e successivamente porto a bollore fino ad ottenere una crema piuttosto densa. Riempio tutti i vasetti, lascio raffreddare e poi li ripongo in frigo per un paio d'ore almeno. Saranno due ore abbastanza lunghe ma nel frattempo i vostri bimbi potranno intrattenersi per un po' con il pentolino del budino. Una volta che i budini si sono raffreddati creo la parte mostruosa, quindi metto qualche biscotto al cacao all'interno di un sacchettino e con l'aiuto di un matterello li rompo fino ad ottenere una polvere piuttosto sottile. Posiziono le caramelle gommose, aggiungo con l'aiuto di un cucchiaino il biscotto sbriciolato, qualche fogliolina di menta mi raccomando ben lavata e asciugata e come tocco finale i ragnetti. I nostri vasetti di terra sono ora pronti per sorprendere e addolcire anche la creatura tenebrosa più difficile da accontentare. I secondi dolcetti mostruosi sono i lecca lecca fantasma. Per la loro realizzazione ci occorre un pennarellino nero, del cotone o tessuto non tessuto bianco, delle forbici, nastrini in raso dai colori halloweeniani e naturalmente qualche lecca lecca. Con le forbici taglio tanti quadratini di tessuto non tessuto di misura 10 cm x 10 circa, li sovrappongo in maniera sfalzata fino ad ottenere un effetto abbastanza coprente e poi li utilizzo per coprire la pallina del lecca lecca. Con i nastrini in raso blocco il tessuto e creo un papillon mentre con il pennarello vado a disegnare gli occhi e la bocca. tanti fantasmini dal cuore dolce da regalare in risposta alla famosa domanda dolcetto o scherzetto? come terzo ed ultimo dolcetto vi mostro le ciambelle vampiro. Per la loro realizzazione abbiamo bisogno di dentiere da vampiro in plastica o in caramella, occhietti anche in questo caso in plastica o in zucchero quindi commestibili e naturalmente qualche ciambella glassata. assemblarle è veramente un gioco da ragazzi, vi basterà tagliare a metà le dentiere gommose e posizionarle al centro della ciambella, in questo modo. Aggiungere gli occhi e adagiarle su piattini adeguati mi raccomando. Saranno un'ottima alternativa alle solite caramelle e le dentiere diventeranno un gioco per spaventare gli amichetti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, qua sotto nell'info box vi lascio il link diretto alla playlist dedicata ad halloween dove trovate trucchi, idee, nail art dedicate al giorno più spaventoso e niente fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate, un bacione e al prossimo video, ciao!